L'hai voluto a te? Io no E tu l'hai voluto? Chi l'ha voluto? Non si sente Chi l'ha voluto? La moglie Te dove devi Il microfono del personista Ma che troppo? Si rubi e sospira, è troppo morta, non sospiro mai con te, penso sulla me. Hai mandato un bel biglietto, e sul biglietto c'era scritto, e da soli un ciannellino, tu non voglio più sabe. E allora, con la piazza e con la nera, ogni sera, ogni sera, me ne vado a passeggiare. Alla macchia dura, alla macchia dura, ogni sera, ogni sera, me ne vado a passeggiare. E me, e me, l'hai voluto te, e si, e si, l'accia fa morire. E me, e me, l'hai voluto te, e si, e si, l'accia fa morire. Ehi, l'hai voluto! Con la piazza e con la nera, ogni sera, ogni sera, me ne vado a passeggiare. E me, e me, e me, l'hai voluto te, e si, e si, e si. Con la piazza e con la nera, ogni sera, ogni sera, me ne vado a passeggiare. La piazza e con la piazza e con la piazza! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E beh, e beh, l'hai voluto te, e sì, e sì, volete cantare voi? E beh, e beh, l'hai voluto te, e sì, e sì, e sì, taggia fa morire, e beh, e beh, e beh, l'hai voluto te, e sì, e sì, taggia fa morire, e sì, e sì. La regola. E beh, e beh, l'hai voluto te, e sì, e sì, taggia fa morire, e beh, e beh, allora, se non fate l'applauso loro non smettono, fatevi un applauso. E sì, e sì, taggia fa morire, e beh, e beh, l'hai voluto te, e sì, e sì, taggia fa morire, e beh, e beh, l'hai voluto te, e sì, e sì, tra gia fa morire. è davvero stupendo avete un castello meraviglioso e voi, voi, la gente di Lago Pesone è veramente come si dice maestro? non mi vengono i... fantastica, di più superlatina, di più e io vocabolario tuo ragazzi, mi è tornata la voce complimenti, facciamo un applauso al nostro percussionista Juan Carlos il nostro percussionista argentino, argentino erano anni che eravamo senza pile allora, Arbore non è soltanto canzone napoletana c'era Arbore anche Caribe, anche molto latino per cui il prossimo brano è dedicato posso darti l'uccello? il prossimo brano come state sentendo è dedicato ad un uccello, non pensate a male, a quell'uccello il pappagallo sapete come si chiama quell'uccello? sapete come si chiama? scusate un attimo maestro Gaetano Gaetano, aspetta, aspetta come si chiama il pappagallo? com'è? non sento cocorito vai, cocorito però vogliamo sentire le vostre mani al ritmo forza 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 vai, la compensa lo fatemi sentire in onore del pappagallo arriva cocorito 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 e non viente pappavalle è scappata tanto a cuore solo vada con il pappagallo cocorito cocorito e non venga pappavalle è scappata tanto a cuore non vengono con il pappagallo cocorito serpettino avversa per niente ma non sono finito oh ma che fa come niente non fa bene non francese o se non porto vegano non porto salino pesa non provo pappositano e cocorito cocorito una scelta linea ma demerito demerito che non lo caggia le fa cocorito cocorito è un vecchio bappalo che sciampata tanto a cuore solo vengono con il pappal cocorito serpettino non vengono sapate niente senza non sono finito oh ma che fa come niente eh guapa bappal 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 come niente bene cocorito cocorito che due che fa bapal che sciampata tanto a cuore solo rompare con bapal cocorito sempre finito non mi resta fatti niente ma non sono finito oh ma che fa torna te se che o vena non francese o se non porto di gara non da saldino pesa che la nuova posita è la nocce nel febbraio alle smoghe portogallo mietze suono mietze balla se un bai non fa pavala cocorito sempre vido se 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 sempre vido co co rido co 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 rido con le mani sempre rido se 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 perdito co 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 rido e andate in questo punto vogliamo presentarvi voglio presentarvi gli elementi di questo gruppo la premiata arboristeria italiana potete visitare anche il nostro sito web su www.arboristeriaitaliana.com e andiamo alle percussioni alle percussioni come dicevo prima il maestro Juan D'Alcone un applauso accompagniamolo con le mani così forza forza se siete caldi accompagniamo la musica con le mani e passiamo la batteria alla batteria il maestro il maestro Gaetano Corella e andiamo avanti con le presentazioni al basso Nicky Bonzia Leo ma la mia chitarra c'è fuori perché qua non c'è ma pure si è fregato la chitarra vai si vado avanti presenta tu il nostro mitico bandolista al bandolino Franco Cagliani è la chitarra acustica acustica alto bello cara mia alla chitarra acustica acustica alla voce alla voce e tutto il resto Nicola alto mare grazie mo mi tocca lo devo presentare per questo io dall'altra voce maschile perché apparentemente è un uomo è maschio accompagnato sempre dal suo figlio paparallo vai là vai là Silvano Martirelli e io mi presento lassù sono Giancarlo All Socks aspetta aspetta stavolta no no l'avevo lasciato avevo detto l'avevo detto io l'abbiamo dimenticato l'abbiamo fatto apposta dai Giancarlo te ne è scazzata e che tu ti fai sempre a mano direi di qui ti armonerai con il pezzo grazie grazie